La supermedia di Utrend del 28 gennaio segnala la stabilizzazione di fratelli d'Italia, che da settimane ha fermato la sua corsa, ma anche la risalita di Forza Italia. Forse complice la ritrovata centralità in questo periodo di crisi di governo. La Lega resta prima. Il PD insegue. In caso di elezioni la coalizione di centrodestra raccoglierebbe il 49% dei voti. La crescita vertiginosa di fratelli d'Italia sembra essersi fermata. Il nuovo governo però, in caso di elezioni, molto probabilmente sarebbe di centrodestra. La supermedia di Utrend per agi del 28 gennaio, che tiene conto dei sondaggi dei maggiori istituti, racconta come sarebbe composto il nuovo Parlamento se si andasse alle urne. La Lega è sempre il primo partito. Anche se non è più ai livelli di crescita che hanno toccato il picco con le elezioni europee del 2019, il PD è stabilmente secondo sempre intorno a quota 20 punti. Si è fermata anche la crescita del partito di Giorgia Meloni, che ha superato il Movimento 5 Stelle ma non fa registrare variazioni significative nei sondaggi da ottobre. In ogni caso, sommando le percentuali dei partiti in coalizione, dalle urne uscirebbe quasi certamente un governo di centrodestra. Complice anche la risalita di Forza Italia, che incassa il ritorno al centro della scena in questa fase di crisi di governo. Le intenzioni di voto, secondo la supermedia di Utrend, vedono ancora la Lega di Matteo Salvini in testa. Con il 23,6%. A seguire il partito di Matteo Salvini c'è il PD. Staccato di poco più di tre punti al 19,9%. Fratelli d'Italia è la terza forza. Secondo la maggior parte dei sondaggi. Ma la sua corsa si è arrestata da ottobre. È al 16,3% per la terza settimana consecutiva. Il Movimento 5 Stelle insegue il partito di Giorgia Meloni con il 14,8%. Forza Italia continua a risalire la china. Anche se ancora distante dalle politiche del 2018. Il Partito Azzurro si ferma all'8,2%. Tra i partiti minori azione è al 3,6%. La sinistra al 3,4% e Italia Viva al 3,1%.